Ciao aglio! È uscito il video che aspettavate dall'alba dei tempi. È il video su Lola Stanova. Pensate che ricerche che ho dovuto fare. Ho quattro pagine di fogli con appunti perché ho dovuto studiare la sua vita, tutte le sue imprese, che oggi ti spiegherò all'interno di questo video. Primo lo farò in modo assolutamente oggettivo, senza dare un giudizio. Poi un mio giudizio lo devo dare perché non ce la farei a fare il video in stile giornalista. Quindi vi racconto un attimino la sua storia in modo lineare, poi ci facciamo tutti i vari commenti. Lola Stanova nasce in Uzbekistan e all'età di sei anni inizia a prendere le sue prime lezioni di pianoforte dalla madre che era un'insegnante di musica. Sempre all'età di sei anni entra a far parte di questa scuola d'élite per i piccoli bambini prodigio ed entra anche a studiare al conservatorio di Mosca. Studia contrapunto e anche composizione. E come tutti i bambini prodigi, la sua carriera da performer inizia presto. All'età di otto anni inizia a suonare in giro per il mondo. Germania, Francia, Russia, Italia... E inizia a suonare in giro in questi paesi sia come solista che come solista all'interno dei concerti per pianoforte orchestra. A undici anni vince il concorso internazionale Chopin nella città di Mosca e due anni dopo viene inserita all'interno di un documentario dell'UNESCO come i nuovi talenti del ventesimo secolo. Ma diciamo le gioie più grandi della sua carriera sono quando inizia a trasferirsi negli Stati Uniti in particolare nel 2003. Inizia a fare concerti importantissimi, inizia a fare apparizioni televisive e finisce in una delle emittenti televisive statunitese più famose che è l'ABC, quindi interviste poi a fianco di Potenti. La si vede anche nelle foto, potete trovarlo accanto di Trump perché comunque era diventata veramente una superstar. E nell'agosto del 2008 il museo dell'11 settembre annuncia che l'Ola Stanova terrà un concerto che si intitolerà Note di Speranza su tra l'altro lo Stan Winston di Vladimir Ormitz. Il 19 gennaio 2012, attenzione, fa il debutto alla Carnegie Hall. Ora, nessuno mediocre può accedere a questa fantastica sala, a questo fantastico teatro. Quindi, a dopo i giudizi. Quindi un po' il suo modo di suonare, un po' il suo modo di vestirsi, anche i concerti rendono l'Ola Stanova una vera superstar tant'è che poi, siccome in America amano queste tamarrate, viene inserita anche nella All Star Orchestra. Dopodiché altre tantissime apparizioni, sempre più importanti dal punto di vista di visibilità, poi la sua impennata nei social, Instagram, YouTube, eccetera, ha trovato poi il suo canale di comunicazione e oggi noi sappiamo che è la pianista che è, ogni tanto fa concerti, a volte anche di musica moderna, perché lei ama anche la musica moderna, fa video, diciamo, un po' provocanti. Dunque questo è il suo percorso di vita che l'ha portata a dove è oggi. E questo suo modo di apparire sexy o elegante per alcuni le ha dato il posto in alcune parti. Per esempio, la rivista Limelight, che è una rivista di moda, l'ha nominata fra le dieci icone di stile della musica classica. Nel 2014, Leggo, si è esibita al New York Bowl in onore del caporedattore di Vogue Italia e c'era un Donald Trump, Valentino e altri stilisti, fotografi, supermodelle. Insomma, era entrata nell'ambiente giusto. E ora voglio leggerti alcune domande che gli hanno fatto dei giornalisti e le sue risposte. Cito la prima fonte dal sito mauxa.com e la domanda del giornalista è Come mai ti piace indossare vestiti un po' così mentre suoni? Risposta di Lola Sanova Perché sono una donna moderna e mi interessa come appaio sul palco. Scelgo abiti che ti facciano sentire bene. I concerti sono eventi pubblici e per me la presentazione è così importante quanto la performance. Giustamente. Seconda domanda. Questa è più generica, più interessante. Fonte DagoSpia.com Dice Internet, YouTube, i social fanno bene al mondo della musica classica. E qui, attenzione che tutti i bacchettoni, tutti gli accademici stanno già commentando sotto questo video. No, sono il male della musica classica. Bene, non capite mai un cazzo. Dice Apprezzare Risponde Lola Sanova Dice Apprezzare la musica classica è come apprezzare il buon vino. Devi provarne un po' per allenare le tue papille gustative e capire quali sono i tuoi gusti. I social ti permettono di provare un po' di qui, un po' di là e capire i tuoi gusti molto meglio di quanto potrebbe fare un teatro dal vivo. Queste sono le sue dichiarazioni. Sì, sembra che è stata messa agli arresti. Le sue dichiarazioni. Comunque, c'è sempre Donald Trump in mezzo alle sue cose. Altra domanda, attenzione. Questa è sempre DagoSpia. Dice Lei è famosa, oltre che per le sue qualità tecniche di virtuosa, per la sua bellezza, i suoi abiti sexy e i tacchi a spillo. Questo look è un'esigenza personale o è un modo che serve per raggiungere il maggior pubblico possibile? Risposta La mia musica, le mie gambe, le mie capacità e i miei vestiti? Tutte queste cose sono parte di me e non so come e perché dovrei escluderli. Ogni persona nel pubblico si focalizza su ciò che vuole all'interno di un concerto. C'è chi si focalizza più sulla musica e quindi pensano che il concerto sia esclusivamente una cosa musicale e chi su altro, dice. Può essere semplicemente un evento mondano. E ora queste due domande che gli hanno fatto, qui si vede un po' la natura. La natura della grandissima Lola, dice. Non le preoccupa che si parli più delle sue gambe che della sua musica? Lei risponde. Non mi fastidisce che parlo del mio look. Devo dire che la maggior parte dei miei fan mi segue solo per la mia musica. Questo lei ne è convinta. Dice. Per chi è interessato le gambe c'è un sacco di scelta nei social e non c'è bisogno della presenza di un pianoforte. Certo. Però, siccome sappiamo che il 90% degli uomini sono mortidi, è chiaro che tu, che sei una pianista, vai a raccattare i mortidi nell'ambito pianistico. Cioè, forse non l'ha ancora capito. Domanda. Di quale compositore si sarebbe potuta innamorare se fosse vissuta all'epoca di eccetera? Lei dice. Ho una lunga storia d'amore con Rachmaninoff. Un nostro incontro... Senti qui. Un nostro incontro nella vita reale sarebbe come uno scontro tra due candelotti di dinamite. Una potenza. E poi aggiunge. Non altrettanto per i vicini. L'ha detto sul serio, ragazzi. L'ha detto sul serio. Cosa penso io di tutto ciò? Vedo UFO intanto che passano. Cosa penso io di tutto ciò? Allora. Cosa importante, sempre fonte questa volta è Paolo Fox. L'Olla Stanova è nata il 3 luglio. Quindi 3 luglio è del segno cancro. Cito. Il cancro donna è vulnerabile, però è in grado di indossare una corazza, in grado di non far trasparire la sua vulnerabilità. Quindi io penso veramente che questa ragazza, perché altrimenti non si spiega come potrebbe sorreggere tutto questo carico enorme di critiche che le arrivano. Critiche da maschi, critiche da femmine, critiche che gli dice che non bisogna vestirsi in questo modo per fare un concerto di musica classica. Critiche su critiche, hai rovinato tutto, te sei il demonio. Ora, è chiaro che quando sei un personaggio di spicco, qualsiasi siano i tuoi meriti, vai incontro delle critiche. Bisogna però essere molto oggettivi. Lei è comunque una bravissima pianista. Lo si vede e dopo due secondi che suona non c'era bisogno che io ti leggessi tutto il suo curriculum. Quindi quello è da riconoscere. Punto. Non si può dire che è mediocre, eccetera, eccetera, eccetera. Ma lei ha fatto una scelta precisa di comunicazione e di marketing. Quindi lei o chi per lei. È chiaro che, faccio sempre questo esempio, secondo le statistiche, qui non sta parlando Cristian che si sta inventando i suoi pensieri, secondo le statistiche, in una pubblicità in cui si rappresenta un prodotto, che ne sa se è un pennello per verniciare, piuttosto che nuove penne della Bic, quando si mostra un prodotto in una pubblicità, e in questa pubblicità c'è una donna di bella presenza e anche un po' scosciata, barrascollata, la pubblicità, secondo le statistiche, convertono il 60% in più rispetto a quelle pubblicità in cui dentro magari c'è un uomo e anche non di particolare bella presenza. Quindi, quello che io mi chiedo è, se un'azienda è a conoscenza di questi dati, no? E dice, cavolo, se faccio la pubblicità in cui rappresento il mio prodotto con una bellissima donna e una pubblicità normale, nel primo caso io ho il 60% di conversione in più, nell'altro caso no. Allora, io azienda, e ricordiamoci che l'azienda ha lo scopo unico di fatturare, non è che si va in azienda per, ah ah, facciamo il party, per fatturare, e so che questo metodo, il primo metodo, mi dà il 60% in più. Allora, o lo sfrutto, tanto alla fine poi i numeri parlano, a fine mese io fatturo e non mi frega niente delle critiche degli altri, o se io voglio fare l'imprenditore etico, dico, io non faccio come la concorrenza, io scelgo di fare la pubblicità sobria, seria, normale, bene, però puoi non ti lamentare dei tuoi competitors che scelgono il primo metodo e guadagnano più di te. Cioè, è questa la mentalità, secondo me, che bisogna iniziare ad avere. Cioè, tu scegli di non fare quello... Nessuno ti dice che devi per forza fare così, però puoi non rompere le palle agli altri. Io non fumo, non ho mai fumato una sigaretta nella mia vita, ma non rompo le palle a chi fuma. È così che dovrebbe funzionare la vita. Non è che quello che fai tu è giusto e gli altri sono sbagliati. Ognuno fa quello che è meglio per sé e se imparassimo tutti a fare quello che è un po' meglio per noi anziché guardare gli altri, sarebbe un mondo migliore, ne sono convinto. Piccolo sfogo personale che ogni tanto metto sempre nei miei video perché a volte si perde un po' il senso della ragione. E andiamo a finire per l'ultima cosa alla domanda da un milione di euro. Ma l'ola stanova si è rifatta? Ora, anche qui, piccola premessa. Per me ognuno può fare quello che vuole, può trasformarsi da donna a uomo, da uomo a donna, può rifarsi il seno, può rifarsi... Per me non è segno di spregiativo questa cosa qui. Cioè, se lei si è rifatta... E si è rifatta. Se lei si è rifatta, sicuramente l'ha fatto per sé stessa, no? Perché quando uno interviene in queste cose qui non è tanto per gli altri, ma sono cose che uno fa per sé stesso, per stare meglio con sé stesso, per piacerci più a sé stesso. Quindi non c'è nessun problema. Ho confrontato le foto, non essendo un chirurgo plastico, mi sono autoimprovvisato chirurgo plastico, e ho notato, confrontando le varie foto che magari faccio comparire in sovrappressione, un aumento delle labbra, volume di labbra, guardate che termine tecnico che sto utilizzando, un rigonfiamento labbrare, e anche, diciamo, una sopraggiunta di zigomi più voluttuanti, più gonfianti, che le rendono, diciamo, la simmetria del viso un pochettino più... Vabbè, sto utilizzando termini completamente da caso, comunque sta rifatta, secondo me, forse anche il naso, labbra e zigomi, perché prima è chiaramente anche il seno. Però era già, secondo me, una bella ragazza anche prima. Però ognuno, poi, queste sono scelte personali, non toccherebbe neanche a noi stare qui a parlarne. Va bene, ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, spero che abbiate conosciuto qualcosa in più di questa artista, perché in primi sei un'artista, poi anche è una bella ragazza. E, niente, fatemi sapere cosa ne pensate, lasciate un commento qui sotto, ma soprattutto rispondi a questa domanda. Lei crede veramente che il suo successo sia dovuto dalle sue doti artistiche o da tutto il resto? Hai bisogno di rendere memorabile un momento preciso della tua vita? Allora organizza un concerto di pianoforte. Qui trovi la mia mail per i contatti di lavoro. Intanto non dimenticarti di iscriverti al canale e di dare un occhio al video più visualizzato della settimana. Ciao!